E' tornata a casa Sibilla, la cagnolina che lo scorso sabato si trovava a bordo di una station wagon finita fuoristrada lungo la 1 tra Monte San Savino e Arezzo. A seguito del drammatico impatto contro un pilone, il passeggero, un 86enne, era deceduto sul colpo, mentre il conducente era sopravvissuto. Sull'auto c'era pure una coppia di cani da caccia, ma solo il maschio era rimasto sul posto. Di Sibilla invece si erano perse le tracce, ma ieri mattina è stata finalmente ritrovata. Un'automobilista di passaggio l'ha vissata lungo una scarpata decente all'autostrada, non molto distante dal luogo dell'incidente, dando così l'allarme alla centrale operativa della polizia stradale. Una pattuglia della sottosezione di Battifolle si è precipitata sul posto e l'ha individuata, avvicinandosi a lei e recuperandola con l'aiuto del personale addetto alla manutenzione sulla 1. I poliziotti, dopo averla tranquillizzata, l'hanno fatta salire in auto, portandola a con loro alla caserma di Battifolle, dove lei ha potuto incontrare nuovamente il suo proprietario, ancora segnato dal tragico incidente, ma visibilmente commosso per averla riabbracciata.